Regione Lazio, siamo qui sul palco responsabile di Regione, Daniele Paglionetti eccolo qua con i suoi atleti Federico Angelici, Valerio Sbaraglia, Davide Carcereri, Cristian Piercamilli, Massimo Caporali Mattia Guidi, Manuel Baruffa, Samuele Polidori, Yuri Perelli, Alessandro Beangelis e Lorenzo Fabrizi questi sono i piloti della Regione Lazio mentre abbiamo qui il responsabile Daniele Paglioletti è qui che vi la dice una cosa alla Regione Lazio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti